Una famiglia attanaiata da debiti pregressi è riuscita a salvare la propria abitazione dalla vendita all'asta grazie all'intervento dell'ordine dei dottori commercialisti di Nocera Inferiore. La coppia non era più in grado di soddisfare i debiti anche a causa della definitiva perdita del posto di lavoro di uno dei coniugi. La proposta di un piano, approvato ed omologato dal Tribunale di Nocera Inferiore attraverso il giudice delegato Bianca Manuela Longo, eviterà tutte le procedure esecutive in corso, nonché il pagamento in misura ridotta dei debiti. La proposta, redatta grazie all'usilio dell'organismo di composizione della crisi dell'ordine, consentirà inoltre alla famiglia di beneficiare di una rata ridotta e compatibile con le proprie risorse attuali, mediante la restituzione del debito nei prossimi 16 anni, con prima rata a partire dal mese di agosto 2020. Una decisione accolta con viva soddisfazione del presidente dell'ordine Giovanni D'Antonio, che a nome del Consiglio, congratulatosi con il vicepresidente Giulio Pennisi per il risultato ottenuto, ha puntualizzato come la sentenza il frutto dell'enorme lavoro svolto insieme all'organismo di composizione. L'omologa del piano renderà più agevole l'utilizzo della norma per le tante famiglie di imprese che vogliono uscire dalla crisi economica e finanziaria, che le attanaglia da anni e garantirà maggiori certezze ai tanti commercialisti specializzati nel settore che quotidianamente si confrontano con il Tribunale. E allora, raccontiamola questa notizia, o questa storia a lieto fine, come ci piace definirla, perché il dottore Giulio Pennisi è uno dei protagonisti, uno dei professionisti che ha reso possibile tutto questo. Innanzitutto c'è una famiglia che per alcune vicissitudini e vicende non riesce più a pagare il mutuo che aveva acceso sulla sua casa e rischia di perdere l'abitazione sognata per tutta la vita. Grazie Aurora, grazie soprattutto per l'opportunità di ritornare su quella che appunto più che una notizia è una bella notizia. Oggi siamo anche all'aperto, splende il sole. È una notizia positiva perché dà la possibilità effettivamente di ripartire ad una famiglia che si era rivolta alla massima istituzione che garantisce il rispetto delle norme, che è il Tribunale, e attraverso l'utilizzo di questa norma, che è la legge numero 3 del 2012, conosciuta anche come legge anti o salva suicidi a seconda delle accezioni, dà la possibilità sia a famiglie, consumatori, ma anche a piccole imprese, e su questo è importante sottolinearlo, soggetti che hanno delle difficoltà economiche, di trovare un accordo, una risoluzione diversa da quella di perdere tutto e trovarsi chiaramente sul classico lastrico, come usiamo dire, con i propri creditori. Ed è una legge la cui portata è enorme proprio perché garantisce la sopravvivenza da un punto di vista finanziario di chi è indebitato, ma anche dal lato del creditore la possibilità di ottenere un giusto riconoscimento a quel sacrosanto diritto di credito che anziché perdersi nelle lungaggini delle procedure esecutive e in generale delle procedure giudiziarie hanno la possibilità di ottenerlo con una data certa, con degli importi certi e in modalità che consentano appunto al nostro debitore di poter portare avanti il rispetto di quel nuovo piano. Un piano che avete elaborato come studio e è presentato all'organismo che è istituito presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che è l'organismo appunto di composizione della crisi. È un organismo tra l'altro recentissimo. Sì, in questo dobbiamo ringraziare l'attività svolta dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di cui faccio parte e quindi uno per tutti nomino il Presidente del Consiglio dell'Ordine che è il collega Giovanni D'Antonio, con il quale ci siamo appena insediati nel gennaio del 2017 abbiamo caldeggiato e velocizzato l'iter procedurale per la istituzione di questo organismo. Che cosa fa l'organismo? Fa quello che ha fatto il mio studio nel piccolo per questa attività di cui c'è stato risalto con questa sentenza svolge un'attività di assistenza attraverso i gestori della crisi, che sono tutti i produttori commercialisti e anche avvocati che sono specializzati in materia, assistono imprese e consumatori nella redazione di questa proposta che verrà poi depositata presso il Tribunale affinché il magistrato e in alcuni casi anche i creditori attraverso una forma appunto di mediazione, di partecipazione attiva di questa procedura troveranno una soluzione alternativa a quella delle procedure esecutive. Mi preme sottolineare che sono ben 60 oggi nell'agronocerino, nel circondario del nostro Tribunale i professionisti abilitati a svolgere questa funzione per conto dell'organismo anche per l'attività meritoria che l'anno scorso ha svolto un sindacato e un gruppo di giovani dottori commercialisti che si chiama Unione Giovani Dottori Commercialisti, che grazie anche all'attività del suo presidente che è il collega Giaccoli, hanno organizzato un corso che ha visto la partecipazione di ben 120 colleghi provenienti da tutta la Campania, fatto appunto per formare questa professionalità particolare del dottore commercialista che deve avere questa attitudine anche alla mediazione. Io vorrei raccontarla la storia perché dal punto di vista sul piano giornalistico anche di chi ascolta può essere da apripista rispetto a delle situazioni in cui magari ci si sente oppressi e non si sa quale strada intraprendere. Questa è una famiglia qualunque, tra l'altro due impiegati, la moglie è un impiegato di un ente pubblico, il marito lavora in un'azienda, ad un certo punto con la crisi la sua azienda chiude per cui crolla anche quella garanzia economico-finanziaria che l'Istituto di Credito aveva nei suoi confronti. E qui cosa succede? Esatto, è quello che accade, o meglio, sottolineiamo, poteva accadere nel passato. Una famiglia o anche un'impresa fa un piano nel rispetto di quelle che sono le proprie capacità nel restituire questi fondi, dopodiché avviene un evento imponderabile, non previsto, che ti mette in discussione il tutto. Mentre prima si era alla merce della procedura esecutiva, quindi non c'era altra soluzione se non quella di perdere ciò che avevi posto a garanzia, ebbene con questa norma invece c'è la possibilità, proprio nel caso di questa famiglia, di adire l'organismo o il professionista, come nel mio caso in particolare, e trovare una soluzione alternativa. Perché questo accada però, dobbiamo essere chiari, non vale per tutti. Sì, bisogna che ci sia un requisito fondamentale che il legislatore definisce la diligenza, la meritevolezza, cioè deve avvenire qualcosa per cui io non ho fatto il passo più lungo della gamba, e perché la storia sia lieto fine effettivamente bisogna che parta da un presupposto di merito. Oggi splende il sole, perché splendeva il sole quando abbiamo fatto il nostro progetto, poi magari è avvenuto qualcosa che io non ho avuto la possibilità di fronteggiare, e quindi ritorno nella tranquillità grazie a questa normativa. Ripeto, è una norma di una portata, io ritengo storica. L'Italia è forse uno fra gli ultimi paesi dell'Ocse ad adottarla, però è altresì vero che di queste sentenze, oggi la mia ha fatto clamore, perché il piano dura 16 anni, c'è una moratoria di un anno per cui respireranno per un ulteriore anno, visto che purtroppo in questa famiglia è venuto a mancare uno dei due stipendi, e quindi c'è la possibilità per questa persona di ripartire, di avere tempo per trovare un posto di lavoro, ma in Italia ne stanno avvenendo tante di queste sentenze, per cui è il momento in cui abbiamo capito che, anche per gli istituti finanziari, me lo lasci dire, è molto meglio disincagliare dei crediti che loro chiamano tossici, proprio perché nessuno li vuole, cioè delle posizioni creditori che non avranno mai la possibilità di essere soddisfatte, con un po' in meno, ma con la certezza che qualcosa raccolgono. Cosa succede in questi casi? Cioè se una famiglia o comunque qualcuno dovesse trovarsi in una situazione simile, avendo appunto un mutuo da pagare e non avendo più la possibilità di poterlo fare, perché è venuto meno uno delle fonti di reddito, cosa deve fare? Indichiamo questa strada, perché è importante? E qui scatta appunto la funzione pubblicistica pubblica dell'organismo presso l'ordine dei dottori commercialisti, deve rivolgersi a noi, semplicemente con l'assistenza di un legale o anche senza l'assistenza, se non ce lo si può permettere in quella fase, noi provvederemo a garantire questa prima fase di studio, se si trova una soluzione si parte, presentiamo un piano, molti chiederanno ma i costi chi li paga? Ebbene i costi li paga il piano stesso, nel senso che quel soggetto che ha richiesto l'intervento dell'organismo non dovrà pagare il professionista con tanti soldi all'inizio, ma in questo noi siamo attenti a venire incontro nella funzione sociale, pagherà con le scadenze del piano anche il professionista, cioè detta chiaramente, se immaginiamo per portarla a portare proprio nella vita quotidiana, se io devo pagare un commercialista per fare la mia dichiarazione dei redditi, gli devo dare dei soldi come pure l'avvocato per fare la causa, in questo caso al di là delle spese vive iniziali che sono comunque presenti ma sono minime, la mia spesa sarà sostenuta nel tempo, quindi anche io farò parte di quei creditori che verrà incontro all'esigenza. Mi lasci dire che nel caso specifico questa procedura è durata ben tre anni e proprio perché il sottoscritto credeva e oggi più che ancora crede in questa procedura non erano stati versati alcun acconto, proprio perché si trattava di un caso effettivamente limite di cui avevo la certezza che il giudice delegato avesse dato l'approvazione e quindi anche la mia giusta soddisfazione del mio credito sarà ratezzata nel tempo compatibilmente con le esigenze nuove di questa famiglia. No, che è una sorta di piano di rientro, va impropriamente, con quali garanzie? Quali garanzie devono essere fornite dai soggetti interessanti? La garanzia la fornisce di fatto l'attestatore, cioè il soggetto che assieme al sovraindebitato, al debitore richiedente, sia esso un'impresa, sia esso appunto un consumatore, una famiglia, la devo garantire io professionista, devo dire io ai magistrato e ai creditori guarda che se la poniamo così si può fare, perché ti garantisco che esaminando la situazione di questa persona, di questa impresa, c'è la possibilità di ridurre la rata da 100 a 50 per un periodo prestabilito. Laddove sbaglio incorro in delle responsabilità, è ovvio. Quindi è ovvio che queste garanzie ci devono essere, io professionista l'organismo deve poterle misurare, ma se ne prende anche la responsabilità, noi siamo al fianco dei sovraindebitati, li aiutiamo, corroboriamo le loro richieste. Invece quali requisiti devono avere? I requisiti devono essere fondamentalmente il requisito di sovraindebitamento, la legge lo spiega in maniera abbastanza articolare, ma tecnicamente è l'incapacità di restituire delle somme rispetto ai redditi che oggi. Se avevo un reddito di mille errate per 500 e oggi quel mio reddito si è ridotto a 600, posto che quei 600 servono anche per poter volgarmente dire mettere il piatto a tavola, normalmente dovrò ricondurre quei 500 ad una cifra più sostenibile. Questo è il primo requisito. Il secondo requisito è che io sia un consumatore, quando parliamo di piano del consumatore, quindi un soggetto che non esercita un'attività imprenditoriale, ma c'è anche un piano possibile per l'impresa. Un soggetto imprenditore, anche sotto forma societaria, che non abbia i requisiti di fallibilità, quelli che attengono appunto alla legge fallimentare, quindi sono di piccole dimensioni, ma le piccole dimensioni arriviamo anche ai 200.000 euro di fatturato annui, sono ancora considerate piccole dimensioni e qui intorno ne abbiamo tante di piccole imprese di questo tipo, anche questi soggetti possono proporre un piano. Sarà più articolato, sarà più complesso, interverranno più persone, più professionisti, ma il senso è sempre lo stesso, quello di ricondurre nella fattibilità finanziaria il pagamento di un prestito, anche ridotto, come nel caso di questa sentenza, laddove il creditore sia stato abbastanza leggero nel concedere un prestito a soggetti che di fatto non potevano averne. Mi spiego meglio, se io ho già debiti che assorbono il mio 40-50% dei miei redditi e una finanziaria X o un soggetto Y mi concede ulteriori soldi, ben sapendo che io non potrò restituirli, ebbene quel soggetto potrà pagare questa scelta perché lui esercita un'attività professionale di esercizio del credito non può prestare soldi a chi sa bene che non li restituisce, avrà praticamente quella che si chiama una falcidia, una sforbiciata su quel credito e quindi verrà pagato per un importo addirittura inferiore. Questo è un messaggio importante, per chiudere appunto questa sicuramente è una storia all'etofine, lo dicevamo all'inizio, che si conclude bene perché qui è stato rinnovato il mutuo con una rateizzazione diversa ma con la possibilità di poterlo pagare per la famiglia di mantenere la sua abitazione, così ci auguriamo come tante altre possano seguire questa strada, davvero questa è una sentenza importante che fa da battestrada. È una sentenza, mi lasci dire, anche di cui dobbiamo ringraziare la sensibilità del giudice delegato che l'ha stilata, che la dottoressa Longo, che da un anno e mezzo circa presso il nostro tribunale, giudice delegato ai fallimenti fra l'altro, quindi un giudice abituato a gestire delle situazioni ben diverse da questo punto di vista e mentre parliamo mi è giunta notizia di un ulteriore, altre due omologhe, di altri due colleghi che avevano presentato il piano, ma non perché questa sentenza, non voglio fare il cicero prodomomea per carità, abbia come dire aperto la possibilità. Confidavamo nella sensibilità del magistrato, sappiamo certamente che oggi le circa 50 procedure che pendono presso l'organismo del nostro ordine avranno buona possibilità di ottenere un esito positivo, ma soprattutto si apre la possibilità per tante famiglie e tante imprese del nostro territorio di uscire dalla crisi che le attanaglia da anni, ma soprattutto con buona pace anche del ceto creditorio che rimetterà in circolazione della moneta perché avrà moneta sicura e certa su cui poter contare. Io ringrazio il Vice Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Nocera e Inferno, il Dottor Giulio Pennisi e soprattutto rimando a tutti voi da casa la possibilità che viene data appunto di rivolgersi a un organismo competente perché non tutto è perduto.